no benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di black ops dobbiamo trovare il quadro elettrico ciao ragazzi e c'è anche sergente Fuse no si chiama Fuse, non si chiama sergente, devi sbagliare non vuole essere chiamato sergente io lo chiamo così e' un bruttiscio voglio migliore c'è la gente questa è la prima volta che mi vedete su black ops zombie perchè non ho mai potuto giocare black ops perchè avevo la scheda video di merda invece adesso si è fissato un po' il tutto e posso giocare diciamo decentemente questo mi piace tu non sei più sei sergente quanti cazzo di colpi vogliono i zombie 2 adesso di coltella, di pistola 3 caricatori 3000 non 3 eh sennò allora è stupido sparare quindi è coltella no? eh occhio, se mettono fuori il braccio ti fanno muoversi infatti ma due colpi sei morto ecco per l'appunto non so non è un altro punto ah è che mi dai ah è stupido io muoio sempre contro steamer doni all'inizio inciam, inciam, inciam inciam secondo ram quanto siamo forti mi sta incastando eh saltiamo al contrario ok oddio che cazzo fate non lo so inciampiamole girate il vario un messaggio? what the fuck ma io lo so che ti cerca, nessuno ti deve cercare oltre me esatto non lo so stanno vario perchè io inizia a essere messo quest'ora oddio il loro braccio di merda secondo me è uno zombie tipo c'è incazzato il suo cazzo vuoi? oh mio dio lascia stare i miei familiari lasciati mangiare ma posso tirare le granate dentro la porta tipo si si ma le sbuttani serve cazzo oddio ma me la sono tirata in culo mi sono entrati un po' da sotto mi sono entrati un po' cazzo cazzo oddio dio ah è scappo 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 toyar potresti dare una mano ok sergente fuse no 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 aiutare lo schietto schietto no 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 più munizioni interessante no 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 a coltella a coltella certezza ok tutto a posto ragazzi tutto a posto stiamo dominando e io al russo capizzo delle battutone assurde chissà perchè royal hai spazzanti soldi questi zombie non possono ah eh ditemi quando avete fatto adesso eh ma dai quando sti qua dicono parolacce c'è una cosa assurda saremmen si cambiamo stanza che sparano parolacce che sparano parolacce quando lo cande la roba epica lo apro sopra cambiamola adesso si veloce veloce andiamocene andiamocene proprio proprio in quarta vai 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 eh devi aprire no apriamo apriamo tutto vai sputtaniamo tutti i sassani però che manca attaccato al muro ah, ciao skate out oh, ciao cadete come quorghese iniziato non potete sopravvivere io tengo qua sopra tutti mi sento tipo il pifraio matico con i topolini si ok qua sotto sto coverando diciamo bene buono 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 non battete nemmeno un sovietico ubriaco non vale, perchè il mio non dice niente di interessante ma manca il mio sta parlando, è stranissimo no, niente vodka per te no, ma magari perchè non ho l'audio dai dialoghi acceso ah perchè il mio è un belato idolo e è russo no perchè tu hai un rompicazzo come te e devi continuare a parlare esatto il mio non dice un cazzo silenzio, niente totale dovrebbero decadarti sergente fuse perchè c'è? e mi fanno diventare il mo... no il mozzo è qua che cazzo c'entra è quello che pulisce no, la navi no, che sta dicendo? fate capire un po' a tutti ciao ragazzi noi siamo il sergente fuse royales e io ho un canale su youtube mentre il sergente fuse non lo ha ancora ma non lo vuole detto e da un po' che faccio video con giampite che adesso stiamo parlando del mozzo sta zitto, basta il mozzo, no ma cos'è il mozzo? sei la mente? ehm è presente con l'orsi tipo spugna del capitano di peter pan è presente? no, che cazzo sta dicendo? il bidello delle navi a che cazzo mi guardo? il bidello delle navi il bidello delle navi il bidello delle navi uomo dei servizi allora potresti fare il bidello se c'è il fuoco amico, se ti coltello ti picchia no, 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 non mi picchi però sta tetca fino a di zombie adesso, di sicuro quindi non coltellarmi a picchiare spero di non aver offeso a nessun mozzo se ascolta non credo di siano mozzi qua che si seguono, spero, spero che ne sai perché in caso ci fosse dovrebbe scrivermi un messaggio personale perchè lo stiverei tipo ciao a tutti io sono un bozzo un bidello di che cazzo è? un bidello delle navi io la parlo sulla nave e faccio le pulizie tipo poi roghi alle sicure di merda bevi una vodka stasera anche io non mi parlo ciao, c'è al zombie c'è al zombie ah, è una persona stimabile al massimo sto uomo Nicolai non muore mai finita la sigaretta, sono a posto adesso sono pieno che tossico, del brutto esempio ai ragazzi che ci seguono devi dare un buon esempio, dai su, dai buon esempio esatto no un fumatico poi se voglio io ottimo voi ci provate a correre per due minuti tipo iniziato a morire esatto iniziate a morire poi finiti dopo due secondi e siete morti perfetto qua c'è l'ultimo zombie lo gambizzo o lo uzzido ehm, gambizzo no no gambizzo che apriamo dall'altra parte ehm, no gambizzo devo aprire ehm, sono sciogliere qua sotto guarda aspetta voglio farmi dare un bacino ciao adesso, guardami, guardami guardami no, ho sbagliato, 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 ho sbagliato sono nella mierda zombie fino al collo e non ho munizioni frutta situazione ok ok il mio player ha parlato no, scusa sono nella mierda zombie fino al collo dove andiamo? dove? apro ancora eh, ok ovvio so il dio, quindi apri dai, sono bravo vai fioz, apri a pror, la prossima che cazzo hai detto no 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 vedo a cedere i crittina, 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 vedo a cedere i crittina devo a trovare del piombo, morirò di noia che che dice questa cosa? sei tu fioz ehm, probabile Devo trovare del fiombo! Morirò di noia! Vodka stasera! Si perchè andavo in giro con la pistola senza munizio Kino der Toten! Zombie! Kiss me! E' qua che mi stavo volendo massacrare! Una nuke! Una nuke! Come una nuke? Ci sono i cani, è meglio filarcele! Oh, ci hanno regalato 400 di gode! Bello! I cani! I cani dove sono? Probabilmente ci sono i cani! Non ne sono sicuro! E' molto probabile! Lo restiamo qui? Io resto qui! Io ho paura, ho paura, ho paura! No, non sono idea! Questa cosa... No, esatto! Non ancora ricordo! Un round dopo discorso! Ma vengono a random e cani! Bevi una vodka stasera! Bevi una vodka stasera! Bevi una vodka senza morire stasera! Bevi una vodka senza morire stasera! Ma dove cazzo sei eroi? No, qua mi rubo tutte le chili! Ah, aspetta, mi mette in posizione da gaming! Oh, mio addio! Ho tipo sparato la telecamera in alto! Fottuto! Fottuto! E' come si dice il russo fottuto! Fottuto! Cioè, io li amo questi qua che parlo e dicono parolacce! E' una cosa epica! Davvero? Su Black Ops? E' l'unica cosa... Allora... Stavamo dicendo che Black Ops è un bel gioco! Ti ho scoperto il kit! E hai un bel piccolo! Nicolai! Non muore mai! Nicolai! Non muore mai! Stavamo! 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 Non c'è! Ma devi sentirlo cantare! Cerchiamo a arrivare la tua... No cazzo! Ma help! Help! M*****o! No, mi sono spaventato troppo! Cazzo... Non me ne accorgi che venivano i miei occhi da spalle! Sono morto! che cadono dai tetti si cadono dal cielo come lì nella pubblicità cadono gli ipad che cazzo sono i galaxi ti servono in testa morto ti servono altre munizioni lo siamo spacciati in testa morto qui cadono i zombie però c'è il sole ciao sole eeeh Shire guarda che grafico cambi di saluto come non detto eeeh guardiamoci a tutti i suoi cani arrivo sto arrivando in quarta anzi in quinta forse sono anche in sesta perchè tu parti con queste marce ok aspetta 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 prova questa granata voce infernale ora ora cazzo se scottava cazzo se scottava aiuto io ho finito la granata una cosa negativa prendilo cagnaccio bevi una vodka stasera ma proprio perchè sti cani malefici tipo tutti elettronici non ho la mia idea cadono pure dal cielo mio dio porco capitalista dammi le munizioni ahahah non hai ahahah perchè hai il volume dialoghi merdosi mi sa ho un colpo programma cazzo ma sta zitto mio dio ah oh my god ok zappi corri 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 zappi sei un cinese zappi non restare indietro ma che cazzo c'entra i cinesi è un dannato cinesi scusate cinesi ma è zappi un cinese aspetta occhio credito bastardo non morto dove dobbiamo andare ma dove dobbiamo andare scusa dobbiamo correre piccato no 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 apri 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 qua sotto apri 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 اly ma è zappi ora salendo. è la prova mh ok 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 ho capito lei Аmpdoro no me la faccano per coperete nono non credo è misteri del video gioco scusa ti cazzo centra non credo ma lei è uscito non zwarte stratégia comr footage ıspera come la pronte di suono Però se ti proteggiamo i palmi... No, volume e musica deve aumentare presto che ci stanno macchini Fatto! Ok! Cazzo! Merdo fuori! Sì, sì, dobbiamo uscire! Dobbiamo uscire, dobbiamo uscire! Oh mio Dio sto morendo! Non morite, non morite, vi prego! Facciamo una figura diversa! Non ti preoccupare, sono un francese! Non c'è il lieto fine per... Vabbè, c'è la tegia Grazie Ah! Ok, ok Cazzo! Bella, ti sei scappato! Già, devo scappare la catena! O sei morto? No, no, no! Piressami, Già, piressami, lo c'è! No, arriva, non arriva! Non hai visto che mi è successo? Erano migliaia! Epic Ness! Sto gassando come un cane questa zona! Ok! Ehi, quanto mi piace! Cosa? Devo chiamare Sawyer! Era il suo vecchio nick! Cosa faccio? Gatto, è il nick! Sì, è il nick! Dov'andiamo? Apriamo! No, apriamo qua, apriamo qua! Apri Zambina! Apri te! Zambina arriva! Cazzo siete! Dai! Hai visto dov'è la cassa? No, non so dove zambi, ok! Ok, ma la cassa è dove bisogna attivare la luce! Ok, non c'è problema, aspetta un attimo! No, non la prendiamo! Io cambio, prendo la M16! Ok, basta non prenderla! Prendo la M16! Prendi che figata sta calzola, ragazzi! Dovete sentire che figata è! Sì, e tipo oggi c'è il volume messo a manetta! Ok, vedo da centro! C'è, per regolo! Per regolo, per Dixon! Ecco! Sono morto! No! Merda, c'è la fila! Mi ha mettuto il culo che cazzo scappi! Ok, ok! Siamo morti, siamo morti! Cazzo! Scappa! 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 Oh cazzo, cazzo, cazzo! Scappa indietro! Apri le porte, lascio la porta e lascio! Carpa! Sto tentando di bloccarli! Non ce la faccio! Scappa in centro, qua! In centro! Cazzo, cazzo, cazzo! Nooo! Oh nooo! Oh mio Dio, oh mio Dio! Si, Royalize, 106 uccisioni! Che merda! Si, ruba chi? Oh mio Dio! Killstealer! Killstealer! Comunque! 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 Spero che... No, spero che siamo sarsi! Lo so! Che lo siamo! Comunque, il video è finito! Se, appunto, il video vi è piaciuto, invita la sella come vi piace! E ciao, ciao!